Allora, il nuovo cartellone pubblicitario del coro sarà sopra a coro, va detto alla rocca e poi c'è una parte rosa per le femmine, apre quello che hai già e la parte blu per gli uomini, può uscire quello che hai dentro Allora, il nuovo cartellone pubblicitario del coro sarà sopra a coro Allora, il nuovo cartellone pubblicitario del coro sarà sopra a coro Allora, il nuovo cartellone pubblicitario del coro Grazie a tutti.